Un detenuto è stato ucciso la scorsa notte nella casa circondariale Mamma Gialla di Viterbo. La vittima è un uomo originario di Roma, 49 anni. L'omicida sarebbe il suo compagno di Cella, un 22enne di origini bulgare. Per parlare di questo episodio e della situazione delle carceri abbiamo collegato il garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Benvenuto a Radio News 24. E dunque Anastasia, da quello che è emerso finora, che cosa è successo in quella cella? È successa un'aggressione incomprensibile e ingiustificata di un ragazzo che, per quello che sappiamo, conviveva ottimamente con la sua vittima che nei ricordi anche della moglie, della vedova della vittima addirittura era in qualche modo stato preso in carico come fosse un figlio visto la differenza d'età dall'adulto, dal più grande. Una tragedia che ha finito una vita e che, ahimè, ne ha rovinato un'altra perché ora questo ragazzo che aveva la prospettiva di uscire dal carcere fra tre anni e invece avrà ovviamente una pena molto più lunga e un soggiorno molto più lungo dentro il carcere. Anastasia, questo è un caso isolato oppure spiega di una situazione più generale in particolare nel carcere di Viterbo? In che condizioni si vive? Ed è vero che si tratta di un cosiddetto carcere punitivo? Cioè dove vanno i detenuti che creano problemi in altri istituti? Allora, i casi di morte per responsabilità di altri detenuti sono casi, per fortuna, molto rari. Ce n'è stato anche uno a Viterbo un paio d'anni fa e ce n'è stato recentemente uno, per esempio, sempre qui in Regione Lazio a Velletri ma si trattava in quei casi di persone che avevano problemi di salute mentale abbastanza importanti. Ma non mi sottrago alla domanda sul carcere di Viterbo. Purtroppo il carcere di Viterbo ha un'antica fama di essere un carcere rigoroso motivo per cui spesso vengono trasferiti a Viterbo persone che hanno dato problemi in altri istituti e questo è il caso anche di questo ragazzo che è arrivato a Viterbo essendo Viterbo il quarto istituto in cui è stato detenuto negli ultimi tre anni. Questo ovviamente non fa che rendere più difficili le condizioni di detenzione in queste carceri che hanno questa fama e a cui vengono mandate decine di persone che hanno creato problemi altrove. Ecco, allargando un po' il discorso alla situazione delle carceri italiane qual è la situazione, qual è l'emergenza principale in questo momento? Ma la situazione è molto grave intanto perché ormai siamo tornati ai numeri di presenze in carcere precedenti la pandemia, quindi con un sovraffollamento importante abbiamo superato nuovamente la soglia dei 60 mila detenuti dentro le nostre carceri. A queste condizioni di sovraffollamento si aggiunge dall'altra parte gravi carenze di personale sia sul versante della Polizia e della Sicurezza ma anche delle aree educative, trattamentali e sanitarie. In questo modo il carcere finisce per essere semplicemente un luogo in cui si tengono chiuse le persone e se le persone si tengono chiuse senza dargli una prospettiva, delle attività, qualcosa da fare, qualcosa che possa essere la rieducazione futura il rischio di una convivenza più difficile e anche di atti violenti come questo che abbiamo visto a Viterbo è un rischio che ovviamente cresce. Grazie a Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio. Grazie a voi.